Finalmente Google ha fatto il grande annuncio, ha annunciato Gemini, un nuovo modello di intelligenza artificiale che dovrebbe rivoluzionare un po' il settore. Comunque sicuramente lo mette a soccuadro. Oggi vediamo un po' di cosa si tratta e ci mettiamo anche le mani sopra. Lo aspettavamo da tempo, finalmente Google si è decisa a togliere il freno a mano alle sue iniziative di intelligenza artificiale e ha presentato Gemini, un nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni che ha una caratteristica, è multimodale fin dall'inizio. Vale a dire è in grado di avere a che fare, quindi di maneggiare non solo testi, ma anche immagini, codice, video e audio. Gemini arriva sul mercato in tre taglie, Nano, Pro e Ultra. La versione Nano più piccola sarà adatta ovviamente ad essere ospitata all'interno degli smartphone, quindi in particolare negli smartphone di Google, i Pixel. La versione Pro invece è quella che dà vita e sarà il cuore di Bard, il chatbot di casa Google, e invece la versione Ultra, molto più potente, che dovrebbe riuscire a superare anche GPT-4, arriverà sul mercato nei primi mesi del 2024. Proprio questa versione Ultra, secondo i benchmark pubblicati da Google sul suo sito, dovrebbe essere davvero fenomenale, perché dovrebbe riuscire a superare in termini di ragionamento, tra virgolette, ciò che oggi riesce a fare GPT-4. Quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito le dimostrazioni, a volte davvero spettacolari, di quello che riesce a fare questa nuova intelligenza artificiale. La versione Pro invece è quella che oggi possiamo immediatamente provare, perché è stata inserita all'interno di Bard. È andata a sostituire il vecchio modello Palm con questo nuovo modello che dovrebbe avere delle capacità superiori. Le voglio mettere alla prova insieme a voi, quindi andiamo a fare subito dei test con Bard. Ok, questo è bard.google.com. Qui ovviamente per utilizzarlo dall'Italia bisogna usare una VPN e quindi collegarsi agli Stati Uniti, perché per il momento Bard in versione Pro, Gemini Pro, non arriva in Italia, non arriva in Europa, nei paesi europei, per questioni legate alla legislazione dell'Unione Europea, a cui ancora Google non si è adeguata. E quindi noi dobbiamo provare assolutamente con una VPN. Nella schermata principale vedete subito che Bard è stato aggiornato, questo messaggio ce lo dice chiaramente, quindi possiamo provare questo nuovo modello. Una delle prime cose che si può fare per metterlo alla prova è testarlo sulle sue capacità, diciamo, di comprensione. Per esempio, li posso chiedere una cosa del genere, aiutami a capire cos'è lo Specialty Coffee. Per il momento bisogna utilizzare l'inglese, poi man mano ci sarà la possibilità di utilizzare anche altre lingue. Vedete che già immediatamente mi ha dato una sua descrizione di che cos'è il caffè Specialty, senza star qui a leggere, devo dire che ci sono molti punti, ci sono tutti i punti giusti, tra cui anche la problematica riguardante la questione etica e quindi, diciamo, coglie bene tutto il mondo, le sfaccettature dello Specialty Coffee. Qui ci sono anche dei pulsanti che vedete alla fine di ogni risposta, che sono interessanti, perché oltre a dare dei pulsanti, dei feedback, diciamo, al sistema Good Response o Bad Response, possiamo anche chiedere al sistema di modificare la risposta per darcela in maniera più corta, più semplice, più casual o più professional. Proviamo a dirgli la voglio più corta e vediamo cosa otteniamo. Ed effettivamente fa un riassunto essenziale delle informazioni. Alla fine ci dà anche le fonti, però come vedete c'è anche un tastino interessante qui con il logo di Google che si chiama Double Check Response. Quindi se noi lo schiacciamo, lui fa delle ricerche su Google per cercare di capire quali sono gli elementi della risposta che sono corretti oppure noi. Quindi fa un Double Check. Cliccando su Understand the Results vedete che ci dice cosa ha trovato di positivo e cosa invece non è tanto positivo. Il verde rappresenta quello che va bene ed è vicino ad essere una informazione corretta, invece il rosso no. Invece il testo che non viene sottolineato è un testo in cui non ci sono grandi informazioni per valutarlo. Qui è quasi tutto verde, quindi direi che possiamo essere contenti dell'affidabilità della risposta. C'è anche un altro tasto che ci permette di condividere queste risposte ed esportarle in un formato Docs di Google o anche come Draft all'interno di Gmail. Altra interessante novità di Google Bard rispetto ad altri modelli di linguaggio di grandi dimensioni è la possibilità di vedere dei draft diversi, delle risposte diverse che hanno delle caratteristiche un po' diverse e scegliere quella che ci sembra la migliore o la più completa. In termini di attività di marketing una delle cose che faccio fare a questi chatbot solitamente è quella di scrivere, di agire come content strategist e scrivere un content plan utilizzando la regola del 5-3-2 quindi suddividendo la tipologia di contenuti. Vedete che Bard immediatamente mi dice qual è il tipo di cosa vuol dire questa regola 5-3-2 mi indica anche quali possono essere i pillar, quindi contenuti essenziali, fondamentali per un'azienda di prodotti organici che io gli ho inserito nel prompt come la salute e il benessere, la sostenibilità, l'educazione al prodotto, lo stile di vita e community ed engagement. Quindi mi dice che cos'è la regola del 5-3-2 quindi come deve essere formato il content mix e poi parte con la programmazione settimana 1, settimana 2, settimana 3 suddivisa appunto in varie tipologie di contenuti quelli 5-3-2 quindi curati dall'azienda, originali e personali che riguardano un po' il mondo aziendale e dei dipendenti dell'azienda quindi diciamo che questo compito lo riesce a fare molto bene anche Bard. Proviamo ora a fargli scrivere un piccolo IQ sull'Italia in inverno. Vediamo come se la cava con la creatività. Facciamoglielo anche declamare. Ok, mettiamolo alla prova ora sulle capacità visive vale a dire per esempio gli carico questo piatto di carbonara e gli chiedo cos'è, cosa vede. La lentezza al momento è in realtà attribuibile alla VPN all'uso della VPN ma il sistema in verità è molto veloce nelle risposte. Lui ci dice che è un piatto di spaghetti alla carbonara e poi ci dice che è un classico piatto italiano come fatto spaghetti, uova, guanciale, pecorino romano, pepe nero insomma mi sembra che sia corretto e ci dice, ci dà anche altre informazioni sulla carbonara quindi direi che è corretto. Un'altra cosa importante da dire è che se lì facciamo vedere delle immagini con dei volti di persona il sistema decide di non andare avanti quindi di non darci una risposta per questioni di privacy. uno dei punti di forza di Bard è quello di riuscire a valorizzare l'ecosistema di Google per esempio con la possibilità di andare a fare delle ricerche quindi di interrogare la mole di file che abbiamo all'interno di Google Drive per esempio gli posso chiedere di fare una ricerca dentro Drive e tirarmi fuori tutti i contenuti che riguardano Midjourney come vedete lui accede a Google Workspace e poi mi dà la risposta facendomi anche un sunto di quello che ha trovato all'interno di questi documenti che io ho qui in PDF altri in formato Docs eccetera e poi mi dà anche dei link ai documenti stessi in modo che io possa poi eventualmente aprirli. ma posso anche non fermarmi alla semplice ricerca ma decidere di farli compiere delle azioni per esempio vi dico di accedere a Drive cercare il documento marketing aumentato e poi creare un tweet che lo promuova verso un audience di marketing ed ecco che immediatamente lui mi ha fatto questo tweet Attention Marketers Unlock the power of marketing aumentato con il nuovo libro Marketing Aumentato in questo libro ho esplorato come la tecnologia è trasformando il campo di marketing e come potete usare per la vostra avventura imparvi le nostre strade in MarTech AI e come applicarle ai vostri campanze di marketing prendi la tua copia oggi e iniziare Marketing Aumentato il tuo business con degli hashtag giusti e poi la lista dei link da cui ha tirato fuori queste informazioni perfettamente eseguito ma ovviamente non finisce qui perché possiamo anche fargli fare delle azioni che riguardano Gmail quindi gli posso dire vai su Gmail cerca le mie email e trova tutte le fatture ricevute a novembre 2023 lui accede alle email e mi dà l'elenco delle fatture Crea, Meggiorni, Kyber, Google Ads che ho ricevuto con anche un po' di dettagli sulle fatture stesse e i link proprio alle email che posso andare ad aprire e a rivedere un'altra capacità molto interessante è quella di riuscire ad analizzare i video su YouTube quindi io gli posso chiedere qualcosa del tipo accedi a YouTube e trova i video più popolari che riguardano Vincenzo Cosenza quindi non necessariamente video pubblicati da me ma anche da altri lui mi dice che in base al conteggio delle visualizzazioni il video più popolare è questo Guida a GTP Crea il tuo bot con ChatGPT e poi me ne dà anche altri in effetti è vero non è il mio video più popolare di sempre ma un video sicuramente molto popolare nei mesi più recenti nei mesi scorsi quindi diciamo che è un task che riesce a svolgere abbastanza bene non completamente bene oppure gli potremmo dire di andare a fare un riassunto di un determinato video quindi io qui gli ho dato un video di YouTube di Marquise Brownlee e qui effettivamente lui fa una comparazione tra smartphone e mi dà un riassunto del video cioè il video parla del TCL40 un paper phone con una funzione speciale che ha un display particolare che appunto Marquise sostiene che dovrebbero avere anche altri smartphone questa capacità di Google Bar funziona perché il sistema va a leggere le trascrizioni al momento non ha la capacità di interpretare le immagini direttamente è un'altra postilla importante che questo tipo di capacità non funziona bene con i video in italiano ho fatto delle prove e ancora c'è da mettere a punto delle cose questo era Google Bard con Gemini Pro devo dire che c'è sicuramente un miglioramento rispetto alla versione di Bard che noi possiamo vedere in Italia che era basata su Palm sul modello Palm un bel passo in avanti però il modello Gemini Pro come dicevo prima è paragonabile a GPT 3.5 quindi è la versione gratuita di CHAPT GPT per avere un modello molto più innovativo dovremmo aspettare i mesi prossimi quindi quando sarà disponibile Gemini Ultra e nel frattempo dovremo vedere anche quali saranno le mosse di OpenAI Google quindi ha deciso di esserci in questa corsa per l'innovazione che interessa l'intelligenza artificiale generativa non si tira indietro e rilancia con questi nuovi modelli è un bene sicuramente per la competizione dell'intero mercato e quindi per noi consumatori che dovremmo usufruire di questi nuovi strumenti che saranno sempre più avanzati ed a costi anche più bassi bene se fate delle prove con Google Bard nuova versione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi va di rimanere aggiornati su queste novità dell'intelligenza artificiale generativa non vi resta che iscrivervi al canale ed attivare la campanella alla prossima grazie a tutti